Musica Le 20.30, buonasera e benvenuti al TG2000. In apertura andiamo a Genova dove domani sarà trascorso esattamente un mese dal crollo del Ponte Morandi. Una vigilia piena di ricordi e di voglia di ricominciare per tanti cittadini genovesi. Allora ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Vito Dettore che si trova proprio a Genova. Sì, buonasera, buonasera da Genova. Il crollo di Ponte Morandi è ancora una ferita aperta. Vedete io mi trovo in via Fillac, era una delle arterie principali di Genova. Vedete questo vialone in fondo è totalmente deserto, è una scena spettrale. Da qui, proprio da questo punto dove vedete la barriera alle transene, inizia la zona rossa. Tutte le palazzine che si trovano alle mie spalle in questo momento sono totalmente disabitate perché circa 50 metri da qui, non di più, c'è Ponte Morandi. C'è il moncone del ponte pericolante che potrebbe, c'è il rischio che possa crollare da un momento all'altro. E questo è il motivo per cui le palazzine sono completamente disabitate. Genova è ancora alle prese con tantissimi disagi. Innanzitutto dicevamo il dramma degli sfollati, di chi non ha più una casa. Ma domani alle 11.36 Genova si fermerà per ricordare le 43 vittime. Ad un mese dal crollo i cittadini di Genova chiedono, attendono ancora risposte e attendono risposte alle 300 famiglie, le 300 famiglie che prima abitavano in queste palazzine e che adesso non hanno una casa. Sono ospitate da familiari, da amici, alcune hanno ricevuto un alloggio provvisorio dal comune, ma attendono, sperano di tornare nelle loro abitazioni almeno per prendere le cose, le poche cose che sono rimaste. La città ad un mese dal crollo continua ad essere divisa a metà, l'economia ha subito un colpo tremendo e alcune zone sono letteralmente isolate, proprio come quella che si trova alle mie spalle. Allora andiamo a vedere questo servizio con il quale io da Genova vi restituisco la linea. Da un mese non hanno più una casa, hanno perso tutto e cercano di farsi forza l'uno con l'altro in questo piccolo presidio allestito a ridosso della zona rossa. Nessuno può rientrare in casa nel timore di nuovi crolli e comunque le abitazioni sotto a Ponte Morandi dovranno essere abbattute per consentire la ricostruzione di un nuovo viadotto. 294 famiglie sono in queste condizioni, con lo sguardo sempre rivolto verso l'alto. Quel palazzo che vedete alle mie spalle, sotto al Moncone. Cioè la sua casa è proprio sotto al Moncone? Sotto a quel Moncone lì, che lì è appeso, in attesa di eventi. Speriamo che ci facciano aprire le nostre cose. Poi quello che succede, succede. Noi qua siamo terremotati tutti i giorni. Tutti i giorni è un'esperienza bruttissima. Perché entriamo, ce la facciamo, viene giù, non viene giù. Ogni giorno la tortura. E sua moglie cosa dice? Mia moglie piange. Ogni qualvolta che arriva, che vede il petto del Moncone lì, vede la sua casa e piange. Ieri era arrivata sino qua. Gli ha detto, fatemi entrare un attimo a piano a bocconata di casa mia. Non mi farò andare oltre che poi pianco anch'io. Gli ingegneri del Comune oggi hanno monitorato la tenuta del ponte in vista dell'installazione di alcuni sensori, in grado di segnalare in tempo scricchioli o cedimenti. Una volta installati i sensori, gli abitanti delle palazzine in zona rossa potranno, per un periodo limitato, entrare nelle loro case. Si ipotizza che le persone potranno entrare due volte nelle case, quindi per due volte consecutive, non sappiamo ancora a distanza di quanto, per un'ora e mezza. Presumo non prima di una decina di giorni, una settimana o dieci giorni. L'installazione dei sensori o l'ingresso nelle abitazioni? L'ingresso nelle abitazioni non prima di una settimana o dieci giorni. La vita dei quartieri che si trovano nei pressi di Ponte Morandi è stata stravolta. Anche le attività commerciali che non si trovano nella zona rossa sono in ginocchio. Molti negozi hanno chiuso. La ditta Vergano, da anni rivendita di materiali per l'edilizia, resiste. Il titolare non vuole dire ai suoi dipendenti che deve chiudere per sempre. Non ci sta. Sono giovani e di conseguenza i problemi sarebbero abbastanza importanti. Uno in particolare c'è sia il marito che la moglie, entrambi impiegati in azienda. Qui sarebbe drammatica la cosa. Per cui adesso reggo la botta. Finché posso vediamo di fare in modo di finire nel migliore dei modi. Magari con l'aiuto delle istituzioni in qualche modo. Approvato dal Consiglio dei Ministri con la formula salvo intese il decreto urgenze che include le misure per il rilancio di Genova. Previsti sgravi fiscali e contributi straordinari per aiutare le imprese e i cittadini danneggiati in maniera diretta o indiretta dal crollo del viadotto. Ma il nome del commissario ancora non c'è. Sentiamo Luigi Ferragliolo. È stato approvato il decreto Genova in Consiglio dei Ministri. È stato lo stesso Presidente del Consiglio a spiegarlo a Palazzo Chigi. Abbiamo introdotto misure di facilitazione fiscale per le imprese genovesi e per la piena ripresa dei traffici portuali con l'istituzione di una zona franca urbana e di una zona logistica semplificata per il porto e il retroporto nonché altre misure per favorire la viabilità e i collegamenti in entrate e uscite da Genova. Il decreto diviso in sirici articoli prevede l'istituzione di una zona franca urbana e una zona logistica semplificata per il porto. La zona franca prevede sconti e agevolazioni non solo per le imprese. Chi registra cali di fatturato beneficerà di esenzioni fiscali. Sarà istituito un fondadoc fino a 95 milioni di euro per chi ha subito danni diretti e indiretti dal crollo e sarà riconosciuto un indennizio forfettario per commercianti, artigiani e professionisti. Sono inoltre disposte una serie di esenzioni come IRPEF e IMU, contributi per la ricostruzione pari al valore reale di mercato e la sospensione di tutte le cartelle sattoriali per il 2019 nella zona rossa. Comune e regioni avranno mano libera nelle assunzioni a tempo determinato, ne potranno firmare 200. Il decreto non diventerà operativo tutto in una volta. È stata prima licenziata la cornice generale e poi sarà individuato il nome del supercommissario, che è quello che fa litigare gli enti locali e il governo e potrebbe provocare uno slittamento della nomina. Il governatore Tote e il sindaco Bucci vorrebbero un nome condiviso. Il governo è orientato per un esterno agli enti locali, legato a chi dovrà effettivamente ricostruire il ponte, proprio perché il supercommissario avrà pieni poteri, far partire i lavori senza controlli e la capacità di espropriare. L'esecutivo vuole essere sicuro di controllarlo direttamente, per garantire l'ultimazione del ponte entro la fine del 2019. Approvata anche l'Agenzia per la sicurezza nelle infrastrutture. Il decreto emergente prevede interventi anche per il terremoto di Ischia e nel centro Italia. È arrivata una valanga di sì a Taranto all'accordo tra sindacati e Arcelor Mittal per la cessione del gruppo ILVA, siglato la scorsa settimana. Il 94,29% dei lavoratori, pari a 6.452 voti su 6.866 votanti, ha detto sì all'intesa. La percentuale dei votanti è stata del 63% con un'astenzione del 37%. La percentuale dei contrari invece è stata del 5,7%. Secondo fonti sindacali, il sì per tutto il gruppo ex-ILVA, non solo per lo stabilimento di Taranto, è stato del 93%. Una vera voragine spirituale all'origine di tante scandalose debolezze. Con queste parole il Papa si è rivolto oggi a 130 vescovi di nuova nomina, auspicando una maggiore cura nella formazione dei sacerdoti nei seminari. Pierluigi Vito. Eredi della carne di Cristo, non solo nel sacramento eucaristico, ma pure nel popolo affidato da Dio. Un popolo da amare anche nelle sue ferite, sempre inferte dal peccato e non di rado dai figli della Chiesa. È un discorso vibrante, quello di Francesco ai vescovi di nuova nomina, ricevuti oggi in udienza. Pastori scelti per essere santi, vocati al Ministero per grazia divina. Perciò da voi si richiede non una dedizione intermittente, una fedeltà a farsi alterne, un'obbedienza selettiva. No. Ma siete chiamati a consumarvi, notte e giorno. Compito irrinunciabile è la vigilanza su se stessi e sulla comunità, dalle insidie del maligno e dalle tentazioni narcisistiche, perseverando nell'amore e mettendo Dio al centro, perché la Chiesa non è nostra, ricorda il Papa, è sua. In un'epoca in cui imperversano solitudine e abbandono, i vescovi sono chiamati a donare la pienezza di Cristo, origine di una santità che si nutre dell'abbandono nelle sue mani. Una santità che cresce mentre si scopre che Dio non è addomesticabile, non ha bisogno di recinti per difendere la sua libertà e non si contamina mentre si avvicina, anzi, santifica ciò che tocca. Per questo occorre entrare in dialogo con le domande delle Chiese locali, in particolare attraverso la selezione, l'accompagnamento e la valutazione di clero e seminaristi. Ma le nostre risposte saranno prive di futuro, se non raggiungeranno la voragine spirituale che, in non pochi casi, ha permesso scandalose debolezze. Se non metteranno a nudo il vuoto esistenziale che esse hanno alimentato, se non riveleranno perché mai Dio è stato così resomutto, così messo a tacere. E ora la pagina politica passa tra le polemiche alla Camera e il decreto mille proroghe su cui il Governo aveva apposto per la prima volta la fiducia. Intanto l'Italia in Europa torna ad essere un'osservata speciale, un problema nella zona euro, secondo le parole del commissario agli affari economici dell'Unione, Pierre Moscovici, e sul tema interviene anche il numero uno della BCE, Mario Draghi. Sentiamo Augusto Cantelmi. Nessuno ha mai chiesto le dimissioni di Tria. Il vicepremier Di Maio prova a spegnere una volta per tutte le voci su un passo indietro del ministro dell'Economia al centro degli attacchi dei Cinque Stelle sul reddito di cittadinanza da inserire nella manovra. Anche dal Ministero di Via, 20 settembre giungono segnali di distensione, nessuna ipotesi di dimissioni, ma le pressioni intorno al ministro restano per i Cinque Stelle il reddito di cittadinanza, obiettivo vitale anche per la tenuta del governo. Quello sui conti pubblici tuttavia continua ad essere terreno di scontro con l'Europa. Oggi in Parlamento l'audizione del commissario al bilancio, Oettinger, per il quale far salire ancora il debito italiano sarebbe un errore, mentre scontro totale con l'altro commissario economico, Moscovici. L'Italia è un problema, ha detto, in Europa nascono tanti piccoli mussolini. Durissima la risposta di Di Maio. Tutte queste prese di posizione contro l'Italia, questi giudizi ignobili contro l'Italia, alla fine si scontreranno contro le prossime elezioni europee. Ma la questione italiana viene sollevata anche dal Presidente della Banca Centrale Europea, Draghi. Negli ultimi tempi ha detto, le parole del governo italiano hanno fatto danni, i tassi sono saliti per le famiglie e le imprese. Dalla Camera invece via libera la fiducia sul decreto mille proroghe, ma il voto finale potrebbe slittare a domani tra le misure e la proroga fino a marzo dei vaccini e il blocco dei fondi per le periferie urbane. Il Presidente della Consob, Mario Nava, ha presentato le dimissioni e il vertice della Commissione è riunito per decidere il da farsi. Ieri, in una nota congiunta, i capogruppo di Lega e 5 Stelle alla Camera e al Senato erano tornati a sollevare la questione dell'incompatibilità tra il distacco degli uffici tecnici della Commissione Europea e la guida di un'autority nazionale come la Consob italiana, chiedendo a Nava di dimettersi per sensibilità istituzionale. Adesso all'estero, in Siria, dove si sta per combattere la battaglia finale per la liberazione di Idlib, ultima roccaforte ribelle. Abbiamo raccolto il commento del nunzio anpostolico in Siria, Mario Zenari, che rinnova l'appello a impedire un disastro umanitario. Antonio Soviero. Si vive tutti con grande apprensione e speriamo che con l'aiuto della comunità internazionale si arrivi a trovare una soluzione. Anche il Papa ha fatto quell'appello due settimane fa ad osservare il diritto umanitario internazionale, alla protezione dei civili. Sì, sappiamo che tra questi civili, secondo le statistiche che io sto leggendo, sui tre milioni, l'ha un po' impressionato, circa un milione di bambini. Guardate, dobbiamo fare qualcosa per questa gente, fare qualcosa a tutti, la comunità internazionale, i cristiani che siamo lì in Siria, la gente di buona volontà. Non dobbiamo permettere che la situazione scappi di mano. E poi non dimentichiamoci che c'è una bomba terribile che colpisse, secondo le statistiche delle Nazioni Unite, che risalgono qualche mese fa, colpisse il 70% della gente costretta a vivere a causa di questa guerra nell'estrema povertà. Questa è una bomba. Ecco, mancano fabbriche, 54% delle istituzioni sanitarie o sono chiuse o parzialmente funzionanti. Una scuola su tre, tre milioni di bambini che non vanno a scuola. Adesso è bello vedere i bambini che vanno a scuola, ma pensate in Siria, circa tre milioni non possono andare a scuola. Adesso vi mostriamo le immagini suggestive di una delle più belle tombe della necropoli egiziana di Saqqara, vicino al Cairo, risalente alla Quarta Dinastia oltre 4 mila anni fa. Scoperta nel 1940 si mostra solo oggi in tutta la sua autentica bellezza. Beatrice Bossi. Procedono a passo lento, quasi a non voler disturbare. E gli occhi di questi turisti intanto si riempiono. Sono tra i primi ad ammirare, di nuovo, dopo 4 mila anni, i colori e le incisioni di questa tomba egiziana. È la tomba di Mehu, nella necropoli di Saqqara. Scoperta dagli archeologi, nel 1940 per molti anni è stata privilegio solo di pochi studiosi. Terminati i lavori di restauro, il governo egiziano ha deciso di aprire le porte ai turisti e da qualche giorno tutti possono visitare questo nuovo pezzo della storia d'Egitto. La tomba appartiene ad una persona molto importante, dice questo archeologo. Si tratta di un consigliere di Re Pepsi. Ad attestarlo, anche le incisioni sulle pareti del sepolcro, centinaia di geroglifici raccontano la vita di Mehu, le sue passioni, la caccia, la pesca, il lavoro nei campi e le feste con danze acrobatiche. Un solo affresco ancora non ha trovato spiegazione tra gli studiosi. Il connubio tra due coccodrilli alla presenza di una tartaruga. E con questo è tutto per il nostro telegiornale. Io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata.